Ciao a tutti, vediamo come possiamo acquistare Skull & Bones a basso prezzo, sotto in descrizione trovate già i link che puntano al prodotto su Eneba e Instant Gaming, in questo caso andiamo qua e cerchiamo Skull & Bones, perfetto, apriamo, abbiamo già un risparmio del 19% in preordine, qua vi dice la data di consegna, vi dice la piattaforma, ok, quindi dovete stare attenti soprattutto alla piattaforma, e poi dovete stare attenti qua se c'è scritto qualcosa in aggiunta. Su Eneba ci sarebbe scritto globale, in questo caso vedete ci sarebbe scritto global, su Instant Gaming invece se è globale non c'è scritto niente, se invece è localizzato quindi Europa, Asia, Stati Uniti, Italia, Ungheria e quant'altro lo trovate scritto qua, se non c'è scritto niente va bene, se c'è scritto Europa va bene, se c'è scritto Italia va bene, se c'è scritto qualsiasi altra cosa non va bene, quindi prestate attenzione sempre a questo. La key, perché paese è, e soprattutto la piattaforma, basta. Un'ultima cosa è come attivare il gioco se non sapete come fare, qua sotto c'è scritto, ve lo mostra, poi io comunque ho le guide video sul canale, e poi in fase d'acquisto comunque le piattaforme sia Eneba che Instant Gaming vi dicono come riscattare il codice, quindi non preoccupatevi. Questo è quanto, se avete bisogno di altre guide vi basta lasciare sotto un commento. Ciao ciao! Ciao!